Mi scusi, ho trovato dentro il mio panino un capello. Guardi, veramente sono mortificato per quello che è successo. Se vuole posso farne un altro, nessun problema. Aspetti un secondo. Ragazzi, sapete, ho studiato queste materie per anni, quindi ho letto tutti i contratti del settore. Lui non lo sa però, quindi... Shhh, fate attenzione. Guardi, in realtà ho letto tutte le vostre polisi aziendali e in teoria mi spetterebbe di diritto un rimborso per danni morali di circa 1000 euro, un'auto aziendale dal valore di 30.000 euro e 5 kg di bamba. Onestamente non penso che funzioni così. Ah no? Beh, allora me ne faccio un altro per favore. Ehm, ok. Nessun problema, va bene. Grazie mille. Avete visto ragazzi? Incredibile, vero? Seguitemi per altri consigli, eh? Grazie mille.